Ciao a tutti ragazzi, oggi andrò a giocare a Minecraft dove mi sono chiuso qua dentro per un motivo Oggi andremo a sconfiggere i mostri, comunque perchè c'è la gelatina apposta, mi uccide Eeeh, manca mezzo cuore perchè ovviamente io ho ucciso quella gelatina, ma comunque L'ho fatta io la mappa, però per farvi mostrare che vediamo, no, vediamo con quanto sono bravo perchè da tanto non gioco in survival Allora, abbiamo 4 spade perchè non si può ritornare indietro, quindi prendiamole tutte Ora, c'è questo qua che mi vuole uccidere, come facciamo? Appena apro la porta io sono fritto Non posso? Oh, 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 ah, aiuto Ok, dai, sono, ora sono riapparso Ho barato un poco perchè guardate che ho fatto Eeeh, vabbè, eeeh, eeeh, per forza, sono troppo forti E ho messo il livello più facile, dai, eeeh, comunque, dai Comunque volevo dire una cosa più bella, allora, eeeh Che forse a voi vi piace Inizierò forse a giocare un'altra volta a Granny perchè da un bel po' che non gioco, ovviamente Non sono come a Lion che gioco solo quando esce Certe volte, eeeh, vi faccio ricordare che esiste Granny, eeeh, e comunque, dai Eeeh, iniziamo, iniziamo, perchè, non so perchè mi vogliono E mi ammazzano Perchè mi ammazzano? Cioè perchè non mi ammazzano? Oh, ah, mamma mia, aiuto, 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 no, 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 oh, oh, muori, muori, muori Oh, pure con il livello facile Allora Se è ucciso questo, questi qua mi vengono a prendere tutti E c'è come Putin Oh, no Ora questo qua, no, questo qua lo ammazzo, certo Perchè c'è pure una cosa per dire, non lo ammazzavo Ok, quindi io posso andare a prendere là le cose Queste qua sono tutte le cose che avevo in creativa, ma comunque non mi servono Metto le spade che ormai sono quasi utilizzate qua Pure queste qui Queste, questa E uso queste qua due più potenti E qua, ovviamente Ok Prendiamola E andiamo E andiamo avanti, questa parte è più difficile, più si va avanti E più E qua, ma perché sta prendendo fuoco E va bene No, 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 morite No, aiuto, troppo persone, troppo persone, troppo persone, troppo persone A posto, mi sto uccidendo No, 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 troppo, troppo Troppo No, eh, eh, questo qua ha l'armatura, eh Vai, dai Comunque sono troppo noob Cioè, non vorrei dirmelo perché guardate che schino Che schino ho detto Faccio così Ah, guardate che sono bravo, eh Eh? Guardate che sono bravo, avete visto? No, no, faccio schifo comunque Ok Prendiamo la chiave che potete qua Ovviamente ora cacciamo tutto Ricominciamo Perché comunque No, ricominciamo No, volevo dire Facciamo qua Il coso Ho preso i bottoni E ora vado a prendere Eh, eh, vado Questa qua è un pochino difficile perché ci sono Come dire Eh È un po' difficile, sì Un po' difficile perché è più difficile ucciderli Comunque no, dai Mi posso Aiuto, no, 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 no Mi ammazzo, mi ammazzo, mi ammazzo, mi ammazzo No Ah, mi ammazzo, mi ammazzo che l'hanno capito Sono forte, potente Diciamo Non lo faccio schifo E Così Ok Prendo pure questi E ora Siccome L'ho preso L'ho preso Eh, possiamo andare Vi vedete tutto questo grigio, vedete? Tutto sto grigio E finalmente Vedete i colori Guardate che bello ha Bravo, brava Ma quale bravo Io ho barato con queste In queste spade potenti E forse sono pure morto con queste spade potenti Vabbè Ecco qua Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo un nuovo prossimo video Vido Vido Cugina Su Roblox E E forse su Piggy Ma sicuramente su Piggy Gli SCP già l'ho fatto Quindi penso che su Piggy sicuramente Comunque Al nuovo prossimo Vido Ciao Ciao